Maya e Lina Ciao! Io e Lina giochiamo sullo scivolo! Lina, perché piangi? Lina, non piangere! Maya, cosa è successo? Si è messa a piangere! La devi cullare! La cullo io! Non funziona! Piange comunque! Maya, cullala tu! Piange comunque! Culliamola nel passeggino! Va bene! Forse le dobbiamo controllare i pantaloni! Va bene! Fush, è fatta sotto! La controllo io! È vero! Bisogna cambiarla! Grazie! Grazie! Piange? Sì! Che cosa vuole la tua Lina, Maya? Non lo so! Forse bisogna darle da mangiare? Sì! Andiamo in cucina a darle da mangiare! Andiamo! Mettilina nel seggiolone! Che cosa mangerà? La zuppa per bambini! Prepariamola! Dai! Versa l'acqua! Attenzione! Non rovesciarla! Bisogna mettere il coperchio! Maya! L'acqua sta bollendo! Porta la pappa! Grazie! Porta il cucchiaio! Mescola! Fatto! Assaggiamo! Sì! Secondo me ci vuole lo zucchero! Buono! Mamma! Fammi assaggiare, per favore! Certo! Mamma! Ci vuole il pane! Giusto! Me ne ero dimenticata! Maia! Ecco il tuo biberon! Come sei brava! Mamma! Mamma! Lina non piange più! Urrà! come sono contenta Maya, sei bravissima Maya, hai capito perché Lina piangeva? sì, bisognava darle da mangiare metti mi piace e guarda il prossimo video di Maya e Lina ciao